Nessuno stop dopo le dimissioni di Mauro Angelucci dal vertice della Camera di Commercio Chieti-Pescara. In attesa del nuovo presidente proseguono tutte le attività, precisa il vicepresidente vicario Lido Legnini. Posto che Lido Legnini ha appena affermato che non sarà il nuovo presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, la domanda è come si comporranno gli equilibri fra le due realtà. La questione nella sua complessità è abbastanza semplice. Esiste un consiglio camerale vigente dove le associazioni di categoria sono rappresentate che nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, settimane sui tempi non so dire molto, dovranno trovare la quadra, anche tenendo presente l'accordo di governo che già esiste, dovranno trovare la quadra su un nuovo nome. Qualcuno però dice adesso tocca a Chieti, qualcun altro dice adesso tocca a Pescara. E' difficile ancora spazzare via questi residui campanilistici? Ma io credo che questa questione la si possa superare in questo modo. Considerando l'accordo di governo che esiste e che ha portato all'elezione di Daniele Becci prima e di Mauro Angelucci dopo, basta riaffermare quell'accordo così come viene chiesto da più parti e attraverso una discussione normale in questi casi arrivare a un nome condiviso. Questo è il percorso. Di quella rosa non fa parte l'idoligni? Ma io non voglio parlare di nomi, ovviamente non è giusto oggi. Grazie. 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 Grazie.